L'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta, nel corso dell'attività finalizzata al rilascio dei permessi di soggiorno, ha accertato che 25 persone di nazionalità italiana avrebbero stipulato contratte di locazione di lavoro a favore di cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno. Gli agenti della Polizia di Stato, nel corso degli accertamenti, hanno riscontrato che un gruppo di stranieri, entrati regolarmente in Italia per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, avrebbero prolungato illegalmente la loro permanenza sul territorio nazionale, oltre ai termini consentiti dalla legge, stipulando contratti di locazione di lavoro pur essendo privi di permesso di soggiorno. In base agli accordi internazionali, gli stranieri potevano rimanere nel territorio italiano senza permesso di soggiorno per un massimo di 90 giorni, poiché alla scadenza di tale periodo non sarebbero riuscite a concludere la procedura di riconoscimento della cittadinanza e sarebbero stati privi di permesso di soggiorno, i predetti al fine di protrarre legalmente la loro permanenza sul territorio italiano avrebbero presentato istanze per il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro, senza averne alcun diritto, essendo privi di visto di ingresso per motivi di lavoro e non potendo concludere contratti lavorativi di alcun tipo sul territorio italiano. Gli stranieri, inoltre, avrebbero allegato contratti di lavoro e di locazione conclusi con cittadini italiani in un comune della provincia in violazione del divieto posto dalla legge. La questura di Caltanissetta ricorda che quando si stipulano contratti d'affitto o di lavoro con cittadini stranieri è necessario verificare se gli stessi siano in possesso del permesso di soggiorno, in quanto la legge punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque a titolo oneroso al fine di trarre in giusto profitto di alloggio, ovvero ceda anche in locazione un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto. La stessa pena si applica anche al datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.